Ormai ho un'età così avanzata che non cambio il mio atteggiamento nei confronti della vita. Quando dico di fare una cosa, la faccio. 4-5 anni fa avevamo deciso, insieme al Consiglio di Amministrazione, di potenziare la nostra presenza a Perugia, radice del nostro ente, della nostra fondazione, di potenziarla fortemente e di espanderci ulteriormente nel resto del Paese, perché noi siamo una fondazione nazionale. Puntualmente questo sta accadendo, stiamo concludendo nei 4 anni previsti quelli che erano i nostri obiettivi. Abbiamo aperto a Napoli un collegio, apriremo in autunno un collegio a Milano e oggi abbiamo avuto il grande piacere di dire però che il massimo degli investimenti, il massimo dello sforzo finanziario è nella città di Perugia, perché qui ristrutteremo il nostro gioiello che è il collegio unico. 24.000 metri quadrati che ormai sono invecchiati perché hanno più di 50 anni, non offrono più quei servizi di eccellenza che offrivano 50-60 anni fa, c'è bisogno di un rinnovamento. Uniamo la modifica della resistenza sismica alla necessità di ammodernamento e quindi attraverso un bando che comporterà una spesa fino a 20 milioni di euro affrontiamo il rischio di un itinerario che sarà complesso della completa ristrutturazione del collegio stesso. Siamo sicuri di dare un contributo, non solo di migliorare le condizioni di ospitalità dei nostri assistiti, ma di dare un contributo in questo modo di idee, di test e di denaro alla città di Perugia in cui siamo pienamente inseriti. Quindi noi vogliamo essere parte di questa città, il nostro collegio vive all'interno della città, vive in rapporto con le università e con gli enti locali e noi vogliamo essere parte viva, ripeto, di questa struttura. Lo facciamo talmente insieme che il sindaco è stato associato nella commissione giudicante dei progetti che verranno presentati, il sindaco, i gizi della sospendenza dei beni culturali, quindi sono all'interno della commissione, non ci ascoltano dal di fuori, non ci sorreggono, vivono con noi questa dimensione e quindi partecipano allo sforzo comune. Questo vogliamo fare, questo è difficile fare in momenti come questi, ma è indispensabile. La città di Perugia è meravigliosa, non merita la vita stentata che sta vivendo oggi e c'è bisogno di iniziative, ce ne sono tante e noi vogliamo fare parte di queste iniziative di sviluppo della città stessa.